Un collegamento importante tra cervello fino e intestino. Cervello fino e intestino vuol dire tra lui e lei. Tra te stesso e lei stessa, passando ovviamente per lo stomaco, come lei vorrebbe, da sempre, e come sarà sempre. Infatti, per riuscire a sollevare tutti questi chilogrammi, ci vuole un baricentro eccezionale. Come diceva Luca Carboni. E come avrebbe detto chiunque ci fosse passato. Quindi, collegamento stretto tra cervello di sopra e cervello di sotto. E' tutta aria. E' tutta aria. E' tutta aria.